È andata così, ho chiuso gli occhi e l'ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero, ho fatto il provino, come è giusto che sia, no? Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta vai, vai, vai. Ciao! Avete mai visto Superman qualcuno dire ma tu sembri... Se toglieva gli occhiali ed era Superman. Non ho capito tanto la lingua. È un capolavoro, senti il tornello. Io la metto a casa la mattina, nessuno si chiede cos'è. Adesso non vale più niente, chi se ne frega, anche della chitarra scordata. A me è venuta voglia di avere un problema con mia madre, non so. Il periodo Panella-Battisti, le cose che pensano, il passato remoto declinato in una canzone italiana. Mi fa sempre paura a quelli che parlano come te. Macca solo che sei emozionata, poi l'hai dette tutte. Quella! Quattro sì. X Factor, arrivo! X Factor, arrivo! X Factor, arrivo! X Factor, arrivo! X Factor, arrivo!